Questa prima serata della campagna il sindaco nei quartieri è sicuramente positiva. Questa sera tanta gente al centro culturale per parlare delle necessità che devono vivere i quartieri legati appunto al porto, a via Vendramini, al centro storico e al Buon Pastore. Tanta gente per segnalare quelle cose che l'amministrazione può far meglio, per appunto approvare quanto già abbiamo fatto in questi primi 4 mesi di mandato. Con il sindaco Vantini abbiamo la volontà, assieme anche alla giunta, di girare quartiere per quartiere tutto il nostro territorio comunale e portare finalmente la politica in piazza, portare finalmente la politica a stretto contatto con le persone, per sentire dalla loro viva voce quello che di bene si può fare per il nostro paese. Basta con la politica legata alle sedie, basta con la politica chiusa nel palazzo, basta con una politica che concepisce solamente un dialogo tra eletti, l'elaborazione della politica stessa. Noi abbiamo la volontà di parlare direttamente con i cittadini e di fare finalmente democrazia partecipata. Ecco, dopo l'incontro di questa sera, visto anche l'esito molto positivo, noi abbiamo voglia di continuare. Fra tre mesi probabilmente, questa sarà appunto la scadenza delle campagne del sindaco nei quartieri, andremo a parlare con i cittadini di Pozzo e in seguito con quelli di Raldon e di tutti i quartieri che rappresentano il nostro territorio comunale. Quando noi andremo a definire delle scelte importanti per la nostra cittadinanza, cercheremo sempre un dialogo diretto con i lupatottini. Lo abbiamo fatto quando abbiamo presentato il servizio anagrafico a domicilio Raldon, eravamo presenti una domenica mattina con un gazebo dell'amministrazione comunale, con tutti gli assessori, lo abbiamo fatto quando abbiamo dovuto presentare le soluzioni legate allo spostamento degli alunni dalla scuola Pindemonte alla scuola Cangrande e per spiegare il nuovo servizio mensa. Tutto questo significa democrazia partecipata. Noi ci crediamo, vogliamo che la politica cambi anche da questi aspetti.